I mutamenti climatici che sono in atto nel mondo comportano effetti pesanti anche sull'ambiente del nostro Paese e sulle condizioni di vita della nostra gente. Sentir parlare della desertificazione di alcune regioni africane o dei tifoni violenti dei Caraibi o sulla costa occidentale dei Stati Uniti o in Asia, sembrava descrizione di una realtà lontana, remota, che non ci riguardava. Siamo sull'orlo di una crisi climatica globale, per scongiurare la quale occorrono misure concordate a livello globale. istituzione, porza! Ciao, 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 partigiano, facciami via, e mi sento si muove bene. Ciao, partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao. I cittadini, i abitanti, gli studenti e le espertenze di tutto il mondo stanno calcando le strade, si stanno riprendendo le piazze di tutto il mondo e stanno gridando in faccia a chi ci governa, ai responsabili di questo disastro che non ci stanno. Come medico, no s'usto per un tapicula pasta, come dona pesci, come come in pacche, non las isto per me, σ'ixelio, giorno, 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 una, st' ex, l'ordro confie, giovano ad associate 12 anni, li strade, next le Price and seeing a te, sale 20 liquor, e s'instShow eventually, gli strade, face un pecciso di il appoggiore, daygluelo, giorno, 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 lockdown, giorno, 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 giorno. Questo fa niente a me, che è la mia lama del sette rex, che è quello che è proprio un uomo, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi non mi farò! Non me lo posso permettere! Non mi farò, non mi farò! Non mi farò, non mi farò, non mi farò! Non mi farò, 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 non mi far Sicuramente la minaccia apparentemente non sembra tangibile per noi in quanto non lo sentiamo, non lo avvertiamo in modo concreto. Però spero che questo corteo non sia un espediente per non andare a scuola o per fare tutt'altro ma un punto di partenza per sensibilizzare, per comprendere la vera natura di tutto ciò che succede, la vera natura del futuro che ci aspetta e spero tanto con tutto il cuore. Io mi trovo in una scuola di 1200 alunni e siamo soltanto 10 che ce ne siamo andati. Ho cercato di motivare quante più persone fosse possibile a partecipare, indipendentemente dal destinatario perché molti mi dicevano ma sì il destinatario materiale non è qua, è un destinatario astratto. Il momento di autocoscienza è fondamentale. Siamo in più di 200 piazze in tutta Italia, più di 1900 in tutto il mondo e vogliamo dire una cosa molto molto chiara, basta. Basta il biocidio, basta i cambiamenti climatici, basta le grandi opere inutili e dannose. La lotta non finirà qui, noi ci rivediamo il 23 marzo in piazza Roma per provare a costruire un percorso che sia lungo, che sia largo, che sia inclusivo e che possa tenere dentro le lotte di tutti quanti. Da chi lotta da 25 anni sul proprio territorio per la devastazione ambientale, per la microdiscarica, per le fonderie Pisano a Salerno, per gli inceneritori di Acerra, fino a chi lotta per i cambiamenti climatici da qualche mese come Greta D'Hanberg. Il senso di questa giornata è che ognuno di noi deve agire individualmente per un cambio globale, oltre a chiedere ovviamente il cambiamento anche ai governi che devono essere attenti a delle politiche sostenibili, perché tutto deve partire dall'ambiente, non più usare la plastica e in più pannelli solari. Quindi il cambiamento primario parte da noi stessi e questo è il trucco. Ma la vedo molto partecipata, la cosa mi fa piacere, anche perché è un tema così delicato come quello dell'ambiente, è giusto che sia partecipato non solamente dagli studenti, ma anche dai lavoratori, dai disoccupati e da tutti quanti. Dobbiamo dare un segnale, perché se non lo facciamo noi, chi lo fa? Noi saremo quelli che ne risentiranno di più di questa cosa, perché da qui a 12 anni la situazione sarà non recuperabile, quindi ci svegliamo adesso e facciamo svegliare gli altri adesso, non lo faremo mai più. E' arrivato il momento di farci sentire e capire che non è un problema così lontano come molti pensano, ma è più vicino di quanto pensiamo e dobbiamo fare qualcosa più presto. Non possiamo più aspettare che sia qualcun altro a fare qualcosa, dobbiamo iniziare noi. Per far capire alle persone che non è più una cosa lontana, è una cosa che sta succedendo e riguarda il nostro futuro ed è importante che noi ce ne rendiamo conto e che qualcuno faccia finalmente qualcosa, che noi facciamo qualcosa. Mandare un messaggio, far capire ai potenti di questo paese e del mondo che noi ci siamo, esistiamo e vogliamo cambiare. Non si sente niente però, professoressa non si sente niente, ci sentiamo dopo. A dopo professoressa! Questo è l'evento forse più grande a cui la nostra generazione abbia preso parte fino ad ora. Il cambiamento climatico è la guerra che noi dobbiamo combattere, che noi ci ritroviamo a combattere, la nostra generazione. Smuovere un po' gli animi di tutti e convincere tutti a fare qualcosa per cambiare questa situazione che interessa anche se nessuno se ne accorge tutti. La terra è nostra, il futuro è nostro e non ci può essere tolto. Oggi siamo qua per dare forte che le politiche del governo non ci piacciono. Abbiamo bisogno di politiche, di energie innumabili che ci permettono di vivere in sanità. È fondamentale l'andare, mangiare un messaggio molto importante, ovvero che non abbiamo più tempo. Oramai il tempo sta scadendo e dicono gli scienziati che abbiamo 12 anni, quindi non lo sto dicendo io e se continuiamo così secondo me ne saranno anche di meno. Quindi credo che dobbiamo veramente muoverci e fare qualcosa per questo pianeta. Non è un caso che gli ultimi anni aumentino di continuo malattie cardiovascolari ma anche tumorali legate evidentemente a tutto quello che respiriamo che è frutto ancora una volta del sistema di sviluppo in cui viviamo. Io penso che in generale il problema dell'ambiente sia la priorità assoluta rispetto a qualunque settore, per qualunque altro problema viene dopo il nostro futuro che è la cosa principale. Il futuro è nostro, se ci inquinano al futuro noi non viviamo. Dobbiamo combattere contro l'inquinamento, si deve fare qualcosa prima che non ci sia più tempo. Il mondo non può essere distrutto, dobbiamo distruggere il capitalismo, non l'ambiente, questo è il problema, è il problema economico. Siamo arrivati a Roma in una situazione critica, abbiamo bisogno che cambi, altrimenti come ci è stato appunto detto da scienziati e anche da economisti probabilmente tra 12 anni finiremo e noi vogliamo continuare a resistere. Bisogna mettere in opera una vera e propria transizione ecologica entro i 12 anni che gli scienziati ci hanno detto essere la deadline. Sicuramente è una data che sarà ricordata in futuro, è una data storica e il nostro futuro è in gioco, quindi è giusto lottare per quello. Per me questo momento significa lottare contro il malefricismo dei più potenti. Stiamo portando avanti quello che è un movimento, appunto partito in Svezia e cerchiamo di diffonderlo in tutto il mondo. E' importantissimo perché veramente non c'è tempo e quindi c'è pure una scossa. Stiamo spronando le istituzioni a prendere dei provvedimenti per quanto riguarda l'inquinamento, la costruzione di opere inutili e la distruzione del nostro pianeta. La terra è una sola, non c'è un pianeta B! Gli studiosi dicono che tra 15 anni la terra morirà e noi non vorremmo morire. Si stanno distruggendo! Il senso è quello di far sì che il governo ci noti e prenda dei provvedimenti nei confronti dell'ambiente. E' una giornata molto importante, io penso che ci devono stare delle giornate come queste tutti i giorni nel nostro cuore, perché noi in Africa viviamo un disastro ambientale, i multinazionali distruggono tutto e se vediamo che tanti giovani scappano è anche per il problema del climatico. Io spero che sia un inizio di un risveglio soprattutto da parte dei più giovani, che parta dal clima e che possa prendere un'idea politica un poco più approfondita. E' una nuova rivoluzione dove quelli che sono scesi in campo non chiedono potere, ma chiedono al potere di cambiare rotta. I ragazzi sono il futuro, cioè se non ci sono i ragazzi in campo su quelli che sono i problemi ambientali è chiaro che non ci sarà mai un futuro perché il problema è dei ragazzi, non è delle persone di 50 anni. Le azioni le possiamo fare nel nostro quotidiano, ognuno di noi, è vero che la responsabilità politica è tanta, ma quella di ognuno di noi nella scelta del consumo che fa ogni giorno. Allo stesso tempo dobbiamo chiedere azioni forti che sono quelle della riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera. Tutte queste belle cose, però noi quotidianamente facciamo il contrario, qui manifestiamo. Andiamo a casa e nelle nostre scelte quotidiane distruggiamo il pianeta. Quindi è inutile protestare, agiamo, agiamo, agiamo. Dobbiamo agire tutti quanti insieme, dobbiamo essere solidari tutti quanti insieme perché siamo una forza. Il singolo non può cambiare, ma tutti quanti insieme sì. C'è una continuità tra l'ieri, l'oggi e il futuro di questi ragazzi che vanno supportati. Anche se come generazione qualche responsabilità ce l'abbiamo, no? Ce l'abbiamo, purtroppo ce l'abbiamo. Questa è una ragione di in più per affiancarci a loro e difendere queste lotte, queste manifestazioni. Noi abbiamo lasciato e abbiamo ripreso con loro. Loro sono il 68, ovviamente non il nostro, ma noi possiamo esserlo del loro. Bisogna lottare veramente per buttare fuori le macchine e finirla con i combustibili fossili. Ma come generazione abbiamo qualche responsabilità noi? Beh, io penso che ce l'hanno quelli della nostra generazione che hanno comandato. Noi purtroppo non abbiamo comandato. È chiaro che le coscienze si devono svegliare e le persone devono partecipare perché allora, tanti anni fa, questa era considerata una battaglia arborghese. Non ci si rendeva conto che era un problema di salute pubblica. Nel grande la responsabilità e ce l'abbiamo ancora. Basta pensare che adesso nei supermercati si vendono le confezioni di arance già sbucciate. A spicchi, ma dai, ma si può.